Messaggio per i nostri telespettatori. Con il nuovo digitale terrestre, su tutto il territorio dell'Abruzzo e del Molise, tra il 28 marzo e il 7 aprile, per continuare a ricevere i canali Rete 8 e Rete 8 Sport, potrebbe essere necessario risintonizzare i televisori. Una volta effettuata la risintonizzazione automatica, digitando 10 sul telecomando, troverete Rete 8 e provvisoriamente Rete 8 Sport, digitando 75. Rete 8, la tv leader di ascolti in Abruzzo.